Marco, testa a coda a catena Perfetto, applaudiamo, bravissimo Passaggio riuscito E ora attenzione, sempre con l'autovettura in due ruote dovrà recuperare Ed ecco l'ho preso, è la volta della Latina Ed ecco che viene posizionato Ed eccolo, ha preso, bravissimo Desta sera sono veramente frutazzi del sonito Attenzione E per voi la cartolina Alex, Marco, Maurizio e Leo Questa sera vengono a fare il PIS E' addirittura in piedi, bravissimi E direi che siete ritornati dalla vostra simpatia Un corso, un applauso E' addirittura in piedi, bravissimi Ehi ragazzi, siete un po' in sovraccarico Marco, ma cosa stanno facendo? Ehi ragazzi, esci Esci, esci Fuori 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 Esci fuori, esci, esci Fuori Ma che f***a Fermo Venga, venga Maurizio aiuta la ragazza Siete un po' in troppi Allora, le ragazze Allora, le ragazze tutte con Maurizio Andate dopo Ehi ragazzi, non lo so Ehi ragazzi Ehi ragazzi, ma cosa sta facendo questo qua? Farlo uscire Esci Ehi ragazzi, esci Fuori Maurizio fuori Nero e Maurizio cambio e ancora è arrivato e facciamo un bel applauso alle ragazze siamo state coraggiose dispettoso ragazzi da questa parte vicino alle transenne velocissimi il primo che andrà in autovoltura è lui vai vai sali veloce 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 oh gioca devi essere più veloce carissima allora Alex parte prima con i due giovanotti qua tenetevi forte mi raccomando grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.